E quando è successo? Ma il mio non è un lavoro. La mia è più che altro la missione. E come si saluta il missionario? Con un abbraccio. Da fratelli. La verità è che tu sei sempre stata troppo dura e severa con lui. Giuseppe non può rimanere con lei. È consapevole di questo. Quanto sei stato fesso, figlio mio. Stavi per rovinare tutto. Lui no. Sono sicuro che non tornerà mai. C'è sempre tempo per il perdono. C'è sempre tempo per il perdono. C'è sempre tempo per il perdono.